Con l'ipnosi non verbale veramente possiamo arrivare a trasformare completamente noi stessi. È conosciuto che abbiamo due metà del cervello, un emisfero che è più logico e razionale e l'altro che è più intuitivo. Si può pensare che, dato che sotto un certo punto di vista noi creiamo la realtà, la nostra osservazione della realtà crea una certa realtà, il fatto che ci sia una leggera dominanza da un lato e dall'altro va ad influenzare con la realtà che noi costruiamo. E con l'ipnosi non verbale possiamo in realtà sviluppare una forza centrale, al di là delle preferenze di destra e sinistra e ad un certo punto possiamo veramente vedere che creiamo la realtà che veramente serve a noi, non la realtà che è influenzata da un nostro lato o dall'altro lato e quindi realmente riusciamo a trasformarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.